Prova di accensione per la trippa Stiamo mettendo cosa? Cotone imbevuto di olio di vaselina, l'olio da massaggio Ah, ecco cosa serve Lo apriamo leggermente Le metto il sospetto Ok Proviamo con questo o con l'accendino? Facciamo prima i fighi E poi proviamo con l'accendino Vediamo Però come faccio ad arrivare fino là in fondo? Ci vedi, ci vedi Godia Ce l'abbia fatta C'è solo un attimo di paura Di tensione Siamo riuscito a superare la prova Vediamo il legnetto che brucia Sto pensando se mi cade dentro il telefono Sto pensando se mi cade dentro il telefono No Ho basta che avviate il fuoco al bacino? No, è la finestra È legno, subito prendo il fuoco Un altro Eh, piccolino può essere Piccolino Il fuoco? Eh Come vedete è il fuoco ideale per una grigliatina Arriva a 30 secondi Tanto andiamo ad inquadrare quello che sarà la cibo La cibo La trippa Con i borlotti Con i borlotti Lo metti con la tua pentola No, la pentola non mi ne frega niente Andiamo ad alimentare il fuoco No, la pentola no 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 Dimmi E' sempre lo stesso video? Si, si Cosa lui mi diceva così? Eh beh, cosa devo fare? Ah se vuoi ti rompere un po' e lo riprendi Ah ok Ci vediamo dopo Cari telespettatori